Festival del mondo in comune, di cosa si tratta? Si tratta di un progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo che vuole sensibilizzare e informare i cittadini sulla cittadinanza globale. Siamo tutti cittadini di uno stesso mondo, dobbiamo esserne coscienti e dobbiamo lavorare per avere un mondo sostenibile e più giusto per tutti. E quindi facciamo questo festival, con delle attività anche prima e dopo il festival, in cui 24 partner, tra cui la Regione Umbria, Municipalità dell'Umbria, come Assisi, Foligno, Orvieto, San Giustino, Marsciano, lavorano insieme alle associazioni, all'ONG, alla Diaspora per realizzare interventi che parlino della cittadinanza globale, quindi arte, cultura, spettacolo, tavolo redonde, giochi, cene etniche, e chi più ne ha più ne metta. E ovviamente borse di studio, abbiamo una borsa di studio al compianto e amico Paolo Vinti? Assolutamente sì, perché è molto importante che i giovani imparino a progettare e che vogliano realizzare interventi di cooperazione. Abbiamo quindi fra i partner due università, Università di Perugia e Università degli Stranieri, i cui ragazzi hanno vinto delle borse di studio intitolate per l'appunto a Paolo Vinti, che sicuramente ne sapeva molto di cooperazione internazionale e aveva una grande sensibilità verso questi temi. Siamo quindi ben felici di averle intitolate a lui. Le finalità di TAMAT? TAMAT è un ONG, accreditata dal Ministero degli Affari Esteri e iscritta all'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, che per l'appunto realizza interventi di cooperazione nei paesi in via di sviluppo. Noi siamo presenti in Africa, in Sahel, Burkina Faso e Mali, in Nord Africa, in Tunisia, nei Balcani, in Albania e in Bosnia, in America Latina, in Peru, in Bolivia e in Suriname. Realizziamo progetti per riuscire a supportare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibili identificati dalle Nazioni Unite, quindi lottiamo per migliorare il benessere dei cittadini, ma non solo nei paesi in sviluppo, anche in Italia e in Europa. Lavoriamo per la sicurezza alimentare, per combattere la povertà e trasversalmente abbiamo anche un focus particolare sulle donne, sull'empowerment delle donne e sulla sostenibilità ambientale. Dicevamo un festival itinerante per l'Umbria, le date? Le date del festival sono dal 1 al 9 giugno. Cominciamo a Perugia, al Chiostro di San Pietro, presso l'Università di Agraria, con un intervento a cui partecipa anche la OI, per parlare proprio di cittadinanza globale e di come questa poi si rifletta sulla cooperazione e lo sviluppo e sulla sensibilità dei cittadini. Ci sono poi differenti attività di tutti i tipi che si insonoderanno fino al 9 giugno nelle municipalità che ho citato prima e mi farebbe piacere sottolineare due importanti appuntamenti. Uno presso l'Oasi di San Antonio, il 3 giugno alle ore 21, con la regia di Maurizio Smith, sarà messa in scena un'opera dedicata a Sankara, a Thomas Sankara, personaggio rivoluzionario del Burkina Faso, che ci ha dimostrato come è tutto possibile se c'è la volontà politica per farlo. E quindi noi siamo particolarmente lieti di avere questa pièce teatrale perché il Burkina Faso, il paese di Thomas Sankara, è un paese dove TAMAT lavora proprio dagli inizi, dal 1998, cominciamo a realizzare dei progetti di cooperazione insieme al comune di Marciano. Ovviamente la borsa di studio intitolata a Paolo Vinti verrà consegnata con un evento pubblico il 7 giugno alle ore 17 in via Cartolari 4, una traversa di Via Lessi, presso la sede di Braccia Rubate, dove avremo il piacere di presentare la borsa di studio e la presenza degli studenti. Infatti abbiamo coinvolto nel partenariato due università, l'Università di Perugia e l'Università degli Stranieri, i cui studenti hanno vinto una borsa di studio intitolata Paolino per recarsi in Burkina Faso e vedere da vicino cos'è la cooperazione internazionale. Siamo particolarmente felici di averla intitolata alla memoria di Paolo Vinti perché era una persona decisamente sensibile verso le tematiche della cooperazione, della multiculturalità e sicuramente si sentiva un cittadino del mondo.